Buongiorno a tutti, benvenuti. Io vi presento, sono Alessandra Cornero, sono responsabile dell'ufficio gestione documentale di Formespa e ho il piacere oggi di introdurre e di presentare questo webinar dedicato alla conservazione. Aspettiamo che entriate, vedo che siete già numerosi, siamo tantissimi, un tema sicuramente di grande interesse e ripeto, mentre vi attendiamo di conservazione in un webinar che si inserisce all'interno di un accordo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Emilia Romagna, in particolare il servizio archivistico Parer e Formespa. Parleremo di conservazione e in particolare del manuale di conservazione e delle sue modalità di redazione. Perché parliamo di conservazione? Parliamo di conservazione perché sappiamo bene che le pubbliche amministrazioni hanno il compito per legge di conservare documenti, fascicoli, archivi digitali che vengono formati nell'ambito della propria azione amministrativa e questa testimonianza ovviamente della propria attività, nonché ai fini di memoria storica. Sappiamo, credo che l'obiettivo primario della conservazione è mantenere nel tempo le caratteristiche che assicurano ai documenti il valore di una fonte attendibile e di una prova giuridicamente rilevante. Caratteristiche che sappiamo essere l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e questo sia che si tratti di singoli documenti, delle aggregazioni documentali o delle informazioni a corredo di contesto. Per realizzare tutto ciò però bisogna che ci sia un sistema di conservazione in grado di assicurare la leggibilità e la facile reperibilità dei documenti o di altre informazioni identificative. Il sistema o il processo di conservazione può essere realizzato all'interno della struttura organizzativa dell'ente produttore, come sappiamo, o affidato in modo totale o parziale a soggetti esterni, siano essi pubblici o privati. Si tratta appunto di soggetti che devono possedere i requisiti di qualità e sicurezza e organizzazione che sono individuate nelle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che credo conosciate abbastanza, nonché in un regolamento anche, di cui parleremo dopo sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da Agit. Si tratta appunto di documenti fondamentali che in quest'ambito segnano un superamento del precedente meccanismo che c'era prima di accreditamento dei conservatori. Perché parliamo di conservazione? Perché il tema, da quanto ho detto e da quanto credo sappiate tutti, è importante ancora più oggi, sempre più, al centro dell'attenzione. Considerando che il primo gennaio 2022 sono entrate pienamente in vigore le linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che ho appena citato prima, previste dal CAD, dall'articolo 71, dal CAD del codice dell'amministrazione digitale e pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Come detto, si tratta di un testo normativo fondamentale che traccia le attività da svolgere nei processi di digitalizzazione delle pratiche amministrative, un documento che copre numerosi aspetti della formazione del documento alla conservazione e che ribadisce che le pubbliche amministrazioni hanno il compito per legge di conservare documenti fascicoli e archivi digitali che vengono formati nell'ambito dell'azione amministrativa. Ci dice anche cosa bisogna fare, quali gli elementi utili o importanti e quali gli adempimenti. Tra questi adempimenti c'è il manuale di conservazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigere, adottare un provvedimento formale e pubblicare sul sito nella sezione amministrazione trasparente. Oggi appunto siamo qui perché intendiamo offrire una panoramica sul manuale e appunto il manuale è un documento come abbiamo detto che deve illustrare dettagliatamente alcuni aspetti che sono per grandi linee l'organizzazione della conservazione, i soggetti e i ruoli coinvolti nella conservazione, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, nonché le misure di sicurezza adottato e tutto quanto serve alla gestione e alla verifica del funzionamento del sistema di conservazione nel corso del tempo. Seguendo però le indicazioni delle linee guida, il manuale di conservazione in realtà deve indicare anche molte altre informazioni più specifiche e questo è quello che andremo a analizzare nel corso del seminario e dove verranno anche presentati e analizzati possibili strategie e modelli per la redazione del manuale, in particolare nel caso in cui il servizio di conservazione sia affidato ad un conservatore esterno. Con chi ne parliamo oggi? Con uno dei maggiori esperti sul tema, Gabriele Bezzi, che vado a presentare. Intanto prego Gabriele di connettersi eh di connettere la webcam e il microfono e Gabriele eh oltre a essere archivista, esperto in particolare, esperto archivista, esperto in particolare di conservazione, il dottor Bezzi è responsabile della conservazione della regione Emilia Romagna ed è responsabile della funzione archivistica della eh di conservazione. Eh Gabriele e molte altre cose, ne cito ancora altre due, è co-coordinatore della comunità tematica documenti digitali del community network della regione Emilia Romagna ed è coordinatore del gruppo di lavoro sul manuale di conservazione di procedamus. Prima di passare la parola a Gabriele eh vi ricordo che il webinar si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale tra regione Emilia Romagna e Formez PA e aggiungo come di consueto che potete scrivere le vostre domande nella chat e che la presentazione e la registrazione saranno disponibili alla fine dell'evento. Buongiorno, buon lavoro, grazie Gabriele per essere intervenuto, per intervenire e ti do subito la parola. Grazie Alessandra per la presentazione, per l'introduzione del tema. Eh in effetti oggi parliamo appunto nello specifico di manuale di conservazione, visto anche alla luce delle novità che vedremo portate dalle linee guida, in particolare del manuale di conservazione del titolare, vedremo perché questa specificazione, perché in realtà di manuale di conservazione adesso bisogna, ce ne sono due in realtà, uno del titolare e uno del conservatore, cercheremo di capire questi aspetti nella mia esposizione. Il webinar è strutturato con una mia sola presentazione abbastanza lunga e anche un tempo però per rispondere alle domande alla fine abbastanza lungo, quindi vi chiedo di seguire la mia presentazione, formulare le domande in chat e poi vediamo di rispondere nella seconda parte del webinar. Come agenda, come elementi che presento, ovviamente appunto partiamo da alcune riflessioni generali sul tema conservazione e quadro normativo, che in parte già citate anche da Alessandra, che riprendiamo e poi ci focalizziamo proprio sullo specifico del manuale di conservazione in rapporto alle novità portate da linee guida e in rapporto con gli altri manuali, il manuale appunto di gestione documentale e il manuale del conservatore, di conservazione del conservatore. E alla fine qualche ragionamento più specifico e dettagliato su una possibile redazione e alcuni suggerimenti per rendere più semplice appunto la redazione di questo oggetto, che potrebbe anche essere in prima battuta considerato una cosa un po' strana, ma di fatto può essere molto semplice, soprattutto appunto se c'è un affidamento a un conservatore esterno che di fatto ha già un suo manuale a cui fare riferimento. Quindi partiamo da alcune valutazioni generali, che il tema della conservazione dei documenti informatici è appunto un tema che almeno per gli archivisti era posto anche da tempo, vediamo questa citazione che risale ormai a 40 anni fa, perché appunto il mutamento di supporto, il diverso modo di lettura dei dati, l'indipendenza del singolo dato rispetto al contesto crea problemi relativi alla conservazione. Questa frase è ripetuta anche sempre nel 2013, 10 anni fa, la diffusione capillare delle memorie digitali degli strumenti per la loro produzione e fruizione, rende oggi necessaria una crescita di comprensione del fenomeno e delle difficoltà che lo accompagnano, soprattutto nel caso di materiali fragili e purtuttavia destinate a durare nel tempo. Perché sono fragili i materiali informatici che apparentemente si mantengono anche più, c'è stata un'idea in cui si pensava che si tenessero molto più che la carta, in realtà il problema fondamentale è che hanno necessità di una mediazione tecnologica e la tecnologia sappiamo benissimo che cambia ed evolve. Quindi questo tema crea il problema cosiddetto della obsolescenza tecnologica e quindi della necessità di un'attenzione particolare alle modalità di conservazione. Ci sono problemi di audio, vi sentite bene? Chiedo una conferma visto che... Perfetto, grazie. Dicevo appunto... Perfetto, grazie. Dicevo appunto, quindi questo è il problema della fragilità dei sistemi informatici e che è il cambiamento appunto della logica conservativa che deve essere sul contenuto e non più sui supporti che in ambito informatico cambiano regolarmente e questo è anche un cambiamento appunto di visione dei sistemi di conservazione rispetto agli anni, diciamo i primi anni in cui ci si era posto questo problema. Questo come inquadramento generale del tema, che penso che sia noto, comunque magari poi ci sono domande e approfondiamo. Parliamo ovviamente appunto di documenti informatici così definiti, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti, il documento elettronico è questa definizione data a livello europeo, contenuto conservato, immagazzinato, memorizzato in forma elettronica, in particolare testo, registrazione sonora, visiva, audiovisiva. Uno degli elementi fondamentali appunto dell'informatica è che in realtà di fatto si possono superare anche i tradizionali documenti testuali, ma anche con registrazioni dirette, visive, audiovisive, sonore e con logiche di conservative paradossalmente essendo tradotti appunto in sequenze di bit più simili rispetto alla presente situazione in cui i testi su porto cartaceo avevano una logica conservativa e tutti gli altri elementi erano molto più complessi da gestire come conservazione e come tenuta, essendo già oggetto appunto di evoluzione tecnologica e necessità di una mediazione tecnologica per leggerli. Una rapida carrellata sulla normativa, sulla conservazione di riferimento fondamentale, ovviamente appunto parlando di pubblica amministrazione parliamo di beni culturali, quindi il codice dei beni culturali del paesaggio, ovviamente i testi sulla documentazione amministrativa, il DPR 445, amichevolmente detto tu da testo unico sulla documentazione amministrativa, il CAD, il codice di amministrazione digitale e poi gli elementi successivi, in particolare le linee guida e anche il recente regolamento che riguarda più i conservatori, però è da tenere presente e poi ne parleremo successivamente. Ovviamente queste norme specifiche si inquadrano in un quadro più generale di livello europeo, in particolare il regolamento EIDAS e il regolamento sulla protezione dei dati e appunto e anche a livello italiano i temi collegati alla conservazione e alla gestione documentale sono ovviamente i temi di accesso e trasparenza, recentemente è stato detto che archivi e trasparenza e quindi riferimento all'accesso e trasparenza fondamentale e ovviamente il tema di tutela dei dati personali. In questo vi segnalo anche le regole deontologiche per il trattamento ai fini di archiviazione del pubblico interesse o per scopi di ricerca storica che definiscono le regole di tenuta e di possibilità di accedere ai documenti archiviati nel pubblico interesse. Tutta l'attività di conservazione della pubblica amministrazione è un'attività di archiviazione nel pubblico interesse, questo è molto rilevante secondo me come aspetto da tenere presente. Ricordiamo appunto che parliamo di documenti informatici perché ormai da tempo e le recenti situazioni di pandemia, di lockdown e di smart working l'hanno anche rilanciato molto di più, abbiamo appunto per la pubblica amministrazione ormai l'obbligo di formare gli originali documenti amministrativi con mezzi informatici e quindi siamo di fatto passati e dobbiamo passare da un sistema di gestione documentale di conservazione basato appunto sui supporti essenzialmente cartaci a un sistema di gestione informatica e di conservazione informatica dei documenti informatici prodotti. E sulla conservazione l'articolo sintetico ma base appunto il tema, l'articolo 43 del CAD che dice che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge e regolamento sono conservati in modo permanente con modalità digitale nel rispetto delle linee guida, quindi il tema delle linee guida è già fissato in questo senso come documento di riferimento sul tema conservativo. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali ora Ministero della Cultura sugli archivi delle pubbliche amministrazioni appunto ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 che ricorda che appunto considera gli archivi e i singoli documenti dell'unione pubblica amministrazione un bene culturale da subito e sanziona l'eventuale violazione dell'obbligo di conservare correttamente l'archivio nella sua integrità e organicità. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici e territoriali nonché ogni altro ente istituto pubblico hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. Questo ricordiamolo appunto per la pubblica amministrazione, questo è l'elemento fondamentale e questo è l'elemento fondamentale la legge per cui è prescritta la conservazione dei documenti informatici. Al di là di norme poi specifiche su singole tipologie o singoli ambiti. Fatto questo quadro generale che poi magari se ci sono domande approfondiremo successivamente, focalizziamoci un pochino di più sul tema specifico manuale di conservazione. Ricordando che in realtà il manuale di conservazione non è una novità delle linee guida, ma era già stato introdotto nella normativa italiana dalle regole tecniche del 2013, in particolare dal DPCM 3 dicembre 2013, regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In particolare l'articolo 8, ora ripreso dalle linee guida quasi integralmente nel paragrafo 4.6, era espressamente dedicato al manuale e già nell'articolo 7,1 lettera M era indicata il fatto che doveva essere redatto tra i compiti del responsabile della conservazione c'era anche la redazione del manuale. Mi fermo un attimo appunto sulla novità che era già queste nuove regole tecniche in materia di sistema di conservazione rispetto a quelle precedenti. Avevano cambiato un pochino la visione della conservazione, passando da una logica in cui fondamentalmente si fidava di un supporto di conservazione come i dischi ottici, a un modello più complesso, basato appunto, come dice Gianni Pentadorio, su un modello concettuale, sul ragionamento, sui formati, sui metadati. Il modello concettuale ve lo ricordo perché è un elemento ricorrente nelle linee guida, ribadito nelle linee guida, ribadito in altri elementi e anche un elemento appunto di riferimento per alcuni concetti base, come il tema dei pacchetti, è il modello OIS, che è uno standard di riferimento condiviso a livello internazionale che definisce caratteristiche di un archivio finalizzato alla conservazione a lungo termine, in particolare su oggetti digitali e alla fruizione degli stessi da parte di una comunità di riferimento. In particolare, come dicevo, è un standard che inserisce il concetto usato anche nella normativa italiana di pacchetto informativo, cioè il fatto che la gestione e la conservazione deve essere fatta in base a pacchetti, cioè un contenitore autoconsistente che riacchiude gli oggetti da conservare corredati da opportuni metadati e di questi pacchetti lo standard OIS e la normativa italiana e le linee guida attualmente distinguono tre tipi, i pacchetti di versamento che servono per trasferire i documenti dal sistema di gestione documentale al sistema di conservazione, il pacchetto di archiviazione che è proprio quello che deriva dai pacchetti di versamento e gestito all'interno del sistema di conservazione ed è oggetto della produzione, del processo di conservazione e poi i pacchetti di distribuzione destinati agli utenti che sono gli elementi che il sistema di conservazione può rendere disponibili per un accesso e la fruizione e l'esibizione degli oggetti conservati. Perché sono diversi? Perché in realtà le logiche sono diverse e non è detto che siano assolutamente coincidenti il pacchetto di versamento con i pacchetti di archiviazione e con i pacchetti di distribuzione. L'elemento fondamentale è che sono sempre contenitori che debbono mantenere l'informazione da conservare, l'oggetto del conservare descrivendone tramite i metadati il contesto, le attività svolte e così via e ovviamente questi metadati possono variare tra i diversi tipi di pacchetto e le funzionalità dei diversi pacchetti, in particolare sul tema del pacchetto di distribuzione. Questo è un po' la logica di un pacchetto informativo che ha un contenuto, le informazioni, le informazioni sull'impaccettamento e poi ovviamente le informazioni per raggiungere e poter recuperare il pacchetto. Questo se ve lo dico rapidamente è un tema che appunto è per dire un oggetto descritto all'interno dei manuali di conservazione. Ecco, il manuale di conservazione che è già stato accennato nel glossario delle linee guida viene definito esplicitamente come documento informatico che descrive il sistema di conservazione e illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo di conservazione e la descrizione delle architetture e delle infrastrutture del sistema effettivo di conservazione. Quindi il concetto di sistema di conservazione è un concetto che può essere ampio ma può anche essere specifico, architetture e infrastrutture del sistema che permette lo svolgimento del processo di conservazione dall'acquisizione appunto dei pacchetti di versamento alla gestione dei pacchetti di archiviazione e alla produzione di pacchetti di distribuzione, per usare i termini OIS. Come dicevo, l'idea del manuale di conservazione in realtà deriva appunto nelle regole tecniche già del 2013 da quello del manuale di gestione previsto fin dal 2000, dalle regole tecniche del 31 ottobre 2000 sul protocollo informatico. Quindi l'idea che nei sistemi appunto sia necessario avere un documento descrittivo che dia informazioni e indicazioni su come è stato gestito questi sistemi e quindi abbiamo prima nasce il concetto di manuale di gestione già nel 2000 per descrivere il sistema di gestione documentale e poi sviluppando questa nuova idea di sistema di conservazione più complesso nasce anche l'idea di manuale di conservazione che descriva il sistema di conservazione. Nasce nel 2013 e quindi è un oggetto già esistente, non introdotto come dicevo nelle linee guida. Definiamo questi due elementi secondo anche quello che è definito nel glossario appunto delle linee guida. Gestione documentale come processo finalizzato al controllo efficiente e sistematico della produzione, ricezione, tenuta, uso, selezione e conservazione dei documenti e la conservazione nello specifico l'insieme delle attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del sistema di conservazione a governare la gestione in relazione al modello organizzativo. Vedete che i confini poi tra gestione documentale e conservazione possono essere mutevoli e elabili. La conservazione può essere vista come ultimo passaggio, fase della gestione documentale ma ha anche una sua specificità in particolare appunto nella conservazione di oggetti digitali per la loro complessità e fragilità tra virgolette di cui abbiamo detto prima. Quindi ci sono nella logica normativa italiana due sistemi distinti con due manuali distinti, con dei punti però che vedremo anche di contatto e di relazione perché di fatto gestiscono gli oggetti digitali della conservazione che prima erano tenuti e gestiti per la gestione documentale corrente e poi passano, vengono trasferiti a un sistema di conservazione. La redazione dei manuali quindi pensato sia il manuale di gestione che il manuale di conservazione sia per essere uno strumento concreto non solo un assolvimento di un obbligo normativo perché dovrebbe costituire sia nel caso il manuale di gestione che il manuale di conservazione una guida per gli attori coinvolti o nel processo di gestione o nel processo di conservazione e anche fornire informazioni ai cittadini e alle imprese anche essere uno strumento di trasparenza. Per questo poi viene chiesto l'adozione formale e la pubblicazione nell'area dell'amministrazione trasparente. Ai primi, cioè gli attori coinvolti più specificamente nei processi, quindi i soggetti interni o esterni però operativi direttamente nei sistemi per porre in essere le corrette operazioni di gestione o conservazione documentale. Agli altri cittadini e le imprese per comprendere le caratteristiche del sistema di conservazione o anche del sistema di gestione e quindi dei processi erogati e poterne poi fruire sia da un lato per la gestione per poter interloquire con le pubbliche amministrazioni e per la conservazione soprattutto per fruirne in futuro degli oggetti conservati. Fino alle linee guida qual era la situazione? Che il manuale di conservazione è stato reso obbligatorio per i conservatori, in particolare i conservatori accreditati, che dovevano rispettare un modello proposto da Agit, quindi i manuali di conservazione dei conservatori venivano valutati da Agit e pubblicati nell'elenco dei conservatori e quindi si è costruita una modalità di scrittura di un manuale di conservazione da parte dei conservatori secondo il modello proposto da Agit e tutti questi manuali erano pubblicati nell'elenco dei conservatori accreditati. Rimaneva invece, anche se si parlava del responsabile della conservazione che doveva redigere il manuale di conservazione, rimaneva meno evidente il ruolo del manuale per i produttori di documenti, definiti ora dai titolari titolari. Questa la novità quindi in realtà introdotta nella linea guida è questo, che si chiarisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigerlo, adottarlo con provvedimento formarlo e pubblicare una sezione di amministrazione trasparente, analogamente con quello che era già detto per il manuale di gestione. Anche per il manuale di gestione le linee guida specificano appunto che deve essere adottato con provvedimento formato e pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente. L'altro elemento di novità è quindi che si chiarisce che c'è una compresenza dei due manuali di conservazione, quello del titolare produttore lente appunto che produce e che gestisce i documenti nel sistema di gestione documentale e quelli di coloro che possono fornire i servizi di conservazione. E il rapporto tra il manuale di conservazione del produttore o titolare e il manuale di conservazione del conservatore è definito ed è appunto un elemento fondamentale per la redazione del manuale di conservazione del produttore nel caso in cui affidi la conservazione a un conservatore esterno. Questo è l'elemento chiave di tutta ed è la chiarificazione che c'è stata nelle linee guida. Due manuali in relazione tra di loro. Poi c'è anche una relazione appunto tra il manuale di conservazione del titolare e il suo manuale di gestione che vedremo. Questo però, questo è esplicito riferimento al fatto che il manuale di conservazione del titolare può riferirsi al manuale del conservatore vedremo che aiuta moltissimo gli enti nella redazione del manuale. Ecco, vi ho messo l'esempio appunto della pubblicazione del manuale della regione Emilia-Romagna nell'area amministrazione trasparente. Come vedete, questa è proprio la sequenza che si presenta aprendo questa pagina e quindi vedete che di fatto è il primo atto che risulta all'interno degli atti generali, dopo le leggi, dopo lo statuto e le leggi regionali, ai riferimenti normativi su organizzazione di attività per regione Emilia-Romagna compare questo primo atto, manuale di gestione documentale e manuale di conservazione approvati insieme da un'unica determinazione dirigenziale il 30 dicembre 2021 per essere appunto allineati dal 1 gennaio 2022 con le prescrizioni delle linee guida. Già da questo vedete che ad esempio una delle possibilità è che la redazione dei due manuali vengano collegati e magari approvati anche con un singolo atto. Vedo che avete già anche rilanciato il link. Questo ovviamente è un esempio della regione, non è che ognuno poi può adeguarlo alle sue modalità di pubblicazione degli atti all'interno di amministrazione trasparente. Quello che però è necessario è che ci sia un riferimento formale all'atto formale di approvazione nell'area di amministrazione di amministrazione trasparente. Le altre novità delle linee guida che adesso andremo a vedere successivamente è che sono appunto un po' cambiate le definizioni di ruolo e responsabilità, si è chiarito, definito, che già è indicato anche prima ma con dettagli che poi vediamo, i modelli organizzativi e soprattutto si è chiarito i rapporti tra il responsabile della conservazione come soggetto interno all'amministrazione produttrice o titolare degli oggetti di conservazione e il responsabile del servizio di conservazione che invece è un soggetto all'interno dei conservatori. Poi ho, come ci diceva, la necessità di valutare il rapporto tra manuale di gestione e manuale di conservazione. Vediamo un pochino questi aspetti. Allora, i ruoli di responsabilità definiti nel paragrafo 4 e 4 delle linee guida sono diventati 5, prima erano solo 3, produttore, utente e responsabile della conservazione. Si è meglio precisato questi ruoli, da un lato inserendo il concetto di titolare dell'oggetto di conservazione, che nella definizione poi del glossario è soggetto produttore degli oggetti di conservazione. Il termine soggetto produttore è un termine che deriva prettamente dall'archivistica e che vuol dire il produttore di un archivio in quanto tale, quindi sia dei documenti trattati nel corso dell'attività, sia scritti, prodotti o redatti internamente, sia ricevuti nel corso dell'attività. Poi vediamo cosa si intende per progetti di conservazione che è un termine introdotto dalle linee guida per semplificare un po' anche la redazione dei documenti in certi casi come il manuale e la possibilità di sintetizzare il concetto che invece sarebbe più complesso. Poi abbiamo mantenuto il produttore e il pacchetto di versamento, gli utenti, responsabili della conservazione che però viene precisato meglio e poi si è aggiunto il conservatore che nelle prime redazioni delle linee guida era conservatore accreditato, poi l'accreditamento è cessato perché c'è stata la modifica chiesta dall'Europa nel 20 del CAD che è soggetto pubblico privato che svolge attività di conservazione dei documenti informatici. Quindi si propone agli enti come soggetto che può svolgere il servizio di conservazione e gestire quindi un sistema di conservazione. Ecco, il modello organizzativo in effetti è che il processo di conservazione può essere svolto all'interno o all'esterno della struttura organizzativa dell'ente e le pubbliche amministrazioni le realizzano ai sensi dell'articolo 34,1 bis del CAD che dice che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici, possono in un modo o nell'altro ma devono in ogni caso procedere alla conservazione dei documenti informatici per tutto quanto abbiamo detto prima, possono procedere o all'interno della propria struttura organizzativa, cioè gestendo internamente un sistema di conservazione o affidandoli in modo totale e parziale ad altri soggetti pubblici o privati che possedono requisiti specifici di qualità, sicurezza di organizzazioni individuati nel rispetto della disciplina europea, quindi non più appunto accreditati, ma individuati nelle linee guida e in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione emanato da Agid che è entrato in vigore assieme appunto al pieno entrato in vigore delle linee guida il primo gennaio 2022. Ecco, i requisiti del processo di conservazione, le responsabilità e i compiti del responsabile della conservazione e del responsabile del servizio di conservazione e le loro modalità di interazione dovrebbero essere formalizzate nel manuale di conservazione del titolare, scusatemi questa lapsus da archivista, e nelle specifiche del contratto di servizio dell'accordo. Poi la norma, la linea guida, il parafolo 4.3 dice trovano riscontro anche nel manuale di conservazione del conservatore. In realtà appunto spesso accade l'opposto, dato che tutti questi aspetti erano già inseriti nei manuali di conservazione dei conservatori accreditati, che hanno soprattutto appunto la capacità di descrivere il processo di conservazione effettuato all'interno del sistema di conservazione gestito dai conservatori e le modalità quindi di, ad esempio, di trasferimento nei sistemi di conservazione degli oggetti conservati, degli oggetti prodotti nel sistema di gestione e quindi di fatto in realtà, anche se qua si dice che la partenza del manuale di conservazione del titolare, di fatto nella realtà molti di questi aspetti sono già descritti nei manuali dei conservatori e il manuale del titolare ne può prendere, ne prende più atto, diventa in realtà esattamente l'opposto da quello che ha detto la norma, perché i manuali dei conservatori per certi aspetti precedevano i manuali del titolare e sono più pertinenti al sistema di conservazione. Come si diceva appunto nelle linee guida c'è specificato, come vedete, il riferimento ai livelli di standard di sicurezza 27001 e allo standard che vi ho citato 14721 OIS che devono essere, che il conservatore deve possedere, deve aderire, deve dichiarare di aderire, già questo è inserito nelle linee guida e poi è stato definito ulteriormente i requisiti nel regolamento sui criteri a profondità dei servizi di conservazione dei documenti informatici, entrato in vigore appunto il 1 gennaio 2022, data dalla quale è cessato tutta la normativa relativa alle procedure di accreditamento. Il regolamento, corredato di due allegati, integra quanto già indicato nell'ambito delle linee guida e stabilisce i requisiti generali, in particolare prevede anche l'istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione, cui possono iscriversi i soggetti pubblici e privati che intendono erogare i servizi di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni. Condizione per l'iscrizione del marketplace ai servizi di conservazione è il possesso dei requisiti, sia indicato all'interno dell'allegato A, ma anche dell'allegato B, cioè il piano di cessazione. Quindi di fatto l'iscrizione al marketplace rende evidente che i conservatori si dichiarano in possesso dei requisiti previsti per poter fornire il servizio alle pubbliche amministrazioni. Quindi per una pubblica amministrazione in realtà al di là di conoscere il regolamento per capire quali sono i requisiti che servono per la conservazione, in realtà si deve affidare il servizio di conservazione a un soggetto esterno, il primo elemento da valutare è l'iscrizione del marketplace, perché se è un soggetto, posso affidarlo anche a un soggetto non iscritto al marketplace, ma in questo caso devo comunicare il contratto e l'accordo ad Agit che provvederà a verificare se quello specifico soggetto, anche se non è iscritto al marketplace, è in possesso dei requisiti. Quindi capite che è una complessità. Vedo una domanda al volo, quando le conservazioni vengono svolte all'interno dell'APA, titolare e conservatore coincidono, sono ovviamente all'interno della stessa ente, però a questo punto si differenziano un po' di più i ruoli interni tra il ruolo del responsabile della gestione documentale e il ruolo del responsabile della conservazione, perché i due sistemi devono essere distinti, come vedremo poi dopo. Ecco, il responsabile della conservazione, altra novità delle linee guida, viene definito espressamente che deve essere un ruolo previsto nell'organigramma del titolare, anche se non ha un servizio di conservazione interno, deve essere un dirigente o un funzionario interno formalmente disegnato e in possesso di donne e competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, che sono le tre competenze fondamentali per svolgere questa attività, e può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale. ovviamente è il caso in cui se io ho un sistema interno, vuol dire che sono una struttura abbastanza organizzata e quindi è bene che le due figure siano differenziate, nel caso in cui invece si affida all'esterno, il responsabile della gestione documentale può svolgere benissimo, visto che deve essere in possesso delle stesse competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, anche il ruolo di responsabile della conservazione e che affida alla responsabile del servizio di conservazione del conservatore, può affidare tutte le sue attività, dichiarandola nel manuale di conservazione, ad eccezione della redazione del manuale di conservazione che rimane obbligatoriamente è redatto anche per il titolare. Ovviamente, ad esempio, nel nostro caso di Regione Emilia-Romagna, il nostro manuale ha avuto questa complessità, perché per noi è un manuale sia come soggetto che svolge attività interna di conservazione per Regione Emilia-Romagna, sia di soggetto che svolge attività di conservazione anche per enti esterni e quindi anche come conservatore esterno. e quindi questa è stata un po' la complessità nella redazione del nostro manuale. Normalmente, se uno fa in un modo o nell'altro, può scegliere ed è più facile, soprattutto se si affida a un conservatore esterno e molti riferimenti del manuale saranno presi dal manuale del conservatore esterno. Come si diceva, il manuale è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti, i ruoli svolte dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, l'architettura e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza e ogni altra informazione utile alla verifica del funzionamento nel tempo del sistema di conservazione. L'elemento fondamentale della produzione del manuale di conservazione è quello di dare conto di come funziona il sistema di conservazione adottato per conservare i documenti e mantenerne memorie anche di questo. Questo è l'elemento fondamentale, appunto, in analogia anche al manuale di gestione. Visto che sono sistemi informatici complessi, bisogna descriverli e renderne conto di come funzionano per farli capire e dare un valore ai sistemi in quanto tali che siano considerati affidabili anche nel tempo per la conservazione. Come già detto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigio adottare l'occupamento formale e pubblicare nella sezione amministrazione trasparente. Ecco, l'elemento fondamentale è che in caso di affidamento a un conservatore esterno si chiarisce che le pubbliche amministrazioni possono rinviare per le parti di competenza al manuale del conservatore esterno. Dopo vedremo più in dettaglio che ampia parte del manuale può essere appunto redatto con questa logica di rinviare al manuale del conservatore esterno. Ecco, resta fermo l'obbligo in carico a pubblica amministrazione di individuare e pubblicare i tempi di versamento, le tipologie documentali trattate, le modalità di trasmissione di pacchetti di versamento e le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici. Devo dire che però tutti questi elementi in realtà possono anche rientrare non tanto nel manuale di conservazione, e c'è un livello di ambiguità, ma nel piano di conservazione che dovrebbe contenere tutti questi aspetti. Questo lo vediamo poi un pochino più in dettaglio più avanti. Ecco, resta fermo la competenza del Ministero, MIBAC, ora MIC, l'Università della Cultura, in materia di tutela dei sistemi di conservazione, essenzia appunto del codice sui beni culturali, però segnalo che appunto il manuale non deve essere però approvato da organi del Ministero, come le sovrintendenze, che però possono fornire supporto per la redazione. Questo è specificato proprio nelle attribuzioni e nelle responsabilità delle sovrintendenze archivistiche competenti in materia del Ministero. Il paragrafo 4.6 descrive dettagliatamente, come aveva già fatto anche l'articolo 8 delle linee guida del 2013, che cosa deve riportare il manuale di conservazione. I dati dei soggetti che hanno assunto la responsabilità del sistema, descrivendo la delega, la struttura organizzativa, le tipologie degli oggetti digitali su posto a conservazione con i formati e i metadati, le modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento che è un documento fondamentale nel processo di conservazione, che è quello che attesta l'avvenuto trasferimento corretto dal sistema di gestione documentale al sistema di conservazione, quindi è un documento rilevante per attestare che ciò che è stato trasferito è stato preso in carico dal sistema di conservazione. La descrizione del processo di conservazione, il trattamento dei pacchetti di archiviazione, il processo di conservazione è poi descritto dettagliatamente anche sempre nelle linee guida, nel paragrafo successivo 4.7 e le modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione del sistema di conservazione con la produzione dei pacchetti di distribuzione. Poi il sistema proprio come oggetto informatico nelle sue componenti tecnologiche, fisiche e logiche opportunamente documentate. inoltre la descrizione delle procedure di monitoraggio, le funzionalità del sistema e le verifiche sull'integrità degli archivi con l'evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie, la procedure per produzione di duplicati o copie. Poi abbiamo anche, come dicevo, questo elemento che era ricordato anche in un capoverso autonomo, i tempi entri quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferiti in conservazione ed eventualmente scartate, qualora nel caso della pubblica amministrazione non siano già indicate nel piano di conservazione allegate al manuale di gestione documentale. Quindi in questo caso il manuale di conservazione fa una surroga diciamo sulle tipologie degli oggetti digitali a un documento che in realtà dovrebbe essere più ampio e complessivo già previsto che il piano di conservazione, che è considerato in realtà un allegato al manuale di gestione. Questo è uno degli aspetti un pochino più critici e ambigui nella norma. Poi le modalità in cui viene richiesta la presenza del pubblico ufficiale e le normative. Di fatto appunto i punti sono sostanzialmente identici a quanto già previsto e di fatto strutturato appunto, questo è l'elemento interessante, nel modello che Agide aveva redatto per i conservatori con alcune presentazioni formali, oggetti digitali invece che documenti e questo riferimento esplicito al piano di conservazione. Quando parliamo di oggetti digitali, ricordiamoci appunto che abbiamo questo aspetto che il titolare dell'oggetto della conservazione, questo è sempre nelle linee guida, utilizza già al momento della formazione le modalità e i formati individuati nel manuale di gestione, nel manuale di conservazione per produrli. Cos'è l'oggetto della conservazione? Un oggetto digitale versato in un sistema di conservazione. E che cos'è un oggetto digitale? Un oggetto informativo digitale è un termine sintetico che per indicare complessivamente tutti gli aspetti, tutti gli elementi che possono essere trasferiti a un sistema di conservazione. In particolare i documenti informatici o documenti amministrativi informatici, il fascicolo informatico, altre aggregazioni documentali informatiche o l'archivio informatico. Quindi è un termine sintetico, però ovviamente il tema ad esempio dei formati è relativo specificamente ai documenti. Qua vediamo già appunto un rapporto sul tema dei formati che si deve porre già al momento della produzione dei documenti, quindi già all'interno del manuale di gestione e poi però con la previsione anche della qualità di quei formati a essere utili, a essere mantenuti nella conservazione. E questo è uno dei punti di contatto tra manuale di gestione e manuale di conservazione. L'altro tema è anche quello dei metadati. Perché appunto gli ultimi paragrafi della gestione in realtà sono in rapporto con anche i sistemi di conservazione, i formati di file, il riversamento che sono procedure di fatto utili a mantenere la leggibilità e quindi ad affrontare un tema squisitamente conservativo, cioè cambiare il formato originale dei file per adottare formati più idoni alla conservazione, la specificità del trasferimento al sistema di conservazione e poi il tema di misure di sicurezza che devono essere più o meno analoghe e comunque presenti sia per la sicurezza del sistema di gestione documentale sia per la sicurezza del sistema di conservazione. Nello specifico le linee guida, appunto, parlicano che nella pubblica amministrazione nella pubblica amministrazione il sistema di gestione documentale trasferisce al sistema di conservazione fascicoli informatici chiusi e serie informatiche chiuse, trasferendole concettualmente all'archivio corrente, dall'archivio di deposito in una visione tradizionale di articolazione degli archivi in corrente, deposito e storico, ma anche i fascicoli informatici e le serie non ancora chiuse, trasferendo i documenti in essi contenuti sulla base di specifiche esigenze dell'ente con particolare attenzione per i rischi di obsolescenza tecnologica. Quindi anticipare rispetto a uno tradizionale passaggio di logica archivistica non solo oggetti chiusi e conclusi e non più di trattazione corrente, ma anche documenti di trattazione corrente se c'è particolare rischio di obsolescenza tecnologica, quindi di perdita di leggibilità soprattutto da parte degli oggetti conservati o anche di garanzie di integrità e di autenticità. Quindi, appunto, l'articolo 44 dice che almeno una volta all'anno bisogna prevedere un trasferimento degli oggetti da trasferire nel sistema di conservazione che assicura, come già stato detto, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, legibilità e reperibilità. Poi il responsabile della conservazione effettua la conservazione o affidandola all'esterno o gestendo un sistema interno. Si ribadisce che appunto il sistema di conservazione assicura la caratteristica di questi elementi per tutti gli oggetti che sono stati trasferiti. Ecco, l'altro elemento appunto è che il sistema di conservazione è quindi almeno logicamente distinto dal sistema di gestione documentale, quindi due sistemi, che però si relazionano sia agli standard sugli formati sia agli standard generali di gestione documentale. Deve garantire di nuovo che venga conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione che ritorna come elemento di raccordo tra gestione e conservazione. Perché appunto i tempi sono definiti all'interno del piano di conservazione e ecco, l'altro elemento nuovo è che il trasferimento a un sistema di conservazione esterna è soggettato all'obbligo di autorizzazione da parte delle solo intendenze archivistiche, in questo caso sì, competenti per territorio o all'interno del ministero tramite le commissioni di sorveglianza. E ecco, vediamo nei ruoli che il responsabile del sistema di documentale svolge il ruolo di produttore di pacchetti di versamento, però secondo le modalità operative definite nel manuale di conservazione. Quindi il trasferimento in conservazione viene governato dal sistema di conservazione più che dal sistema di gestione, ma viene svolto operativamente dal lato della gestione documentale. e come si dice, appunto i formati concordati con il conservatore è descritto nel manuale di conservazione del sistema di conservazione. Come vedete, di fatto in realtà il tema dei formati è un tema che si è affrontato nella conservazione che riverbera poi anche nella produzione e deve essere considerato fin dalla formazione iniziale dei documenti per produrre documenti in formati idonei ad essere conservati. Quindi c'è una necessità appunto di coerenza e di rimandi tra i manuali di gestione e di conservazione e c'è un punto di contatto che è il piano di conservazione. Il piano di conservazione era già previsto dall'articolo 68 del 445 del 2000 quindi non era una novità neanche questo e dovrebbe essere elaborato dal lato appunto della gestione documentale e viene definito che il piano di conservazione degli archivi che si integra con il sistema di classificazione quindi il piano di classificazione per definire i criteri di organizzazione dell'archivio cioè struttura appunto del piano di classificazione selezione periodica e conservazione permanente cioè quindi valutando ciò che viene è possibile di essere scartato ciò che deve essere poi conservato permanentemente e confluire nell'archivio storico. Ecco, la novità delle linee guida è che in questi criteri di organizzazione dell'archivio di fatto entrano anche il concetto appunto di definire anche i tempi di invio in conservazione non solo nella struttura tradizionale dei piani di conservazione o tradizionalmente parlati tradizionalmente con termini conosciuti come massimari di scarto quindi non solo i tempi di conservazione ma anche in relazione ai tempi di conservazione la valutazione se trasferirli o meno ai sistemi di conservazione questa è la novità del piano di conservazione che se correttamente sviluppato permette di chiarire fin da subito le modalità appunto di rapporto tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione mentre il manuale di conservazione è quello che descrive il sistema di conservazione e come tale appunto è più necessario che ci sia redatto tenendo conto delle informazioni che derivano da chi effettivamente ha sviluppato e gestito un sistema di conservazione che normalmente spesso appunto è il conservatore esterno poi vanno appunto collegati e mantenuti concetti di formati e di metadati e di organizzazione dell'archivio detto questo rapidamente alla fine vi do alcune indicazioni appunto su possibili modelli in particolare quello che stiamo anche aggiornando nel gruppo di lavoro di Procedamus il manuale di conservazione prodotto già da Procedamus nel 2017 pubblicato anche da Agid che è già un modello di riferimento interessante perché è già valutato dal lato produttore o titolare con un'integrazione prevista con il manuale del conservatore esterno ovviamente come tutti i manuali bisogna adattarlo al proprio specifico caso e bisogna ragionare appunto in dettaglio per definire i rapporti con il proprio manuale di gestione e il piano di conservazione ecco questo ma questo vado rapidamente questa è una struttura appunto classica di organizzazione dell'archivio che si sviluppa poi in certe logiche a livello di documenti informatici in questo sviluppo delle unità documentari ma questo vado veloce ecco vi presento per concludere visto che ormai siamo alla conclusione un possibile indice del manuale di conservazione che deriva essenzialmente dal modello che abbiamo sviluppato come polo archivistico dell'Emilia Romagna all'interno della comunità tematica per gli enti che aderiscono appunto al nostro servizio di conservazione e quindi ci hanno affidato la conservazione dei loro documenti ma che si base essenzialmente appunto su quello schema già adottato da Agide quindi ben solido e permette appunto di integrare abbastanza facilmente partendo quindi produrre il manuale di conservazione del titolare partendo dal manuale di conservazione del conservatore e quindi ovviamente abbiamo scopo e ambito del documento terminologia normativa e standard di riferimento ecco l'elemento specifico su cui focalizzarsi ovviamente è il modello organizzativo interno al titolare che non può essere descritto dal conservatore quindi questo è un capitolo che va essenzialmente scritto in riferimento alle logiche organizzative del titolare mentre la struttura organizzativa per il servizio di conservazione di fatto è totalmente rimandato al manuale di conservazione del conservatore che descriverà appunto l'effettiva struttura organizzativa del conservatore che gestisce il sistema ed eroga il servizio poi ovviamente quindi questo è l'elemento quindi si aggiungono di fatto un organigramma un modello organizzativo specifico del titolare oltre a quello interno al conservatore ricordo che appunto nel regolamento e negli ultimi sviluppi la struttura per i conservatori definite che devono essere definite almeno due specifiche figure di responsabilità il responsabile del servizio di conservazione che diciamo è il responsabile appunto del conservatore in quanto conservatore e il responsabile della funzione archivistica di conservazione che è l'unico ruolo rimasto obbligatorio per secondo me correttamente sottolineare il la funzione archivistica essenziale che è insita nelle attività conservative da qui in avanti appunto tutto sommato sono tutti elementi che sono già presenti o dovrebbero essere presenti più o meno nel form nei manuali dei conservatori a cui uno affida il servizio e qua descrivono appunto seguono tutti gli aspetti che abbiamo visto anche all'interno delle linee guida che devono essere descritte gli oggetti conservati i metadati la struttura dell'archivio le metodologie di produzione o di ricezione dei pacchetti il processo di conservazione compreso gli elementi di esibizione dei pacchetti di distribuzione e la gestione degli scarti poi il sistema di conservazione che ovviamente non può descriverlo altro che il conservatore che l'ha sviluppato e prodotto e lo gestisce e quindi questo è un rimando integrale praticamente al manuale del conservatore da parte del manuale del titolare nel caso ovviamente affidi all'esterno e poi gli elementi specifici le strategie adottate l'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori basate essenzialmente sullo standard unisincro su questo ci sono anche sviluppi recenti nei gruppi di lavoro di Agid la settimana prossima c'è il forum della conservazione e vi presenterò appunto alcuni aspetti sull'interoperabilità tra pacchetti di archiviazione tra conservatori in particolare tra poli di conservazione e poi il tema ovviamente sempre tenere presente del trattamento di dati personali e poi i capitoli di riferimento e gli allegati concludo ricordando appunto riprendendo quello che mi ha detto all'inizio di definire che gli documenti informatici erano fragili come vedete già nel 28 Casanova scriveva che si appigliarono a sostanze fossero più fragili ma meglio rispondenti all'attività sempre più febbrile che veniva impossessandosi dell'umanità ma la conservazione degli atti in archivio ha uno scopo positivo ben determinato tangibile vale a dire quello di rendere utili alla generalità degli individui e agli individui stessi qua chiudo la mia presentazione vi ringrazio vi rimando per informazioni generali sul tema al nostro sito e adesso vediamo appunto di analizzare le varie domande che mi sembra che siano arrivate quindi cerchiamo di usare questa ultima parte circa mezz'oretta per rispondere alle domande e quindi avere anche più in dettaglio i temi che voi avete posto Gabriele grazie grazie mille di tutto grazie per essere stato così preciso e attento anche hai prevenuto anche alcuni problemi e alcune hai risposto già creda ad alcune domande che si sono che si sono susseguite quindi andiamo per ordine ad alcune domande è stato risposto in chat alcune dagli stessi partecipanti che ringraziamo ovviamente è una comunità di pratica temporanea che che si verifica in questi casi e le domande appunto sono alcune relative al manuale di conservazione ma prima ancora alla conservazione di specifici documenti come ad esempio quella che chiede come inviare in conservazione fai l'audio video delle sedute dei consigli comunali in realtà le domande sono due come inviarle e se vanno prima sottoscritte digitalmente dal segretario comunale questa è una domanda specifica sul tipo di documento allora la sottoscrizione ovviamente appunto nel caso come dicevo i documenti informatici permettono di trattare gli audio video con modalità più simili a documenti che invece tradizionalmente scritti perché nell'ambito digitale sono tutte sequenze di bit ovviamente sono oggetti tecnicamente più pesanti quindi l'invio va appunto concordato e valutato tecnicamente con il sistema di conservazione per poterle gestire appunto valutando il peso e le dimensioni di quegli oggetti sul tema della sottoscrizione è ovvio che se si ritiene che siano come dire verbali ufficiali normalmente i verbali vengono sottoscritti da chi può sottoscrivere per validare il contenuto di quel verbale quindi questo è un elemento non tanto conservativo perché la firma non è esattamente un elemento conservativo ma può garantire maggiormente l'integrità e l'autenticità dell'oggetto se invece sono come dire a supporto di un verbale redatto in forma tradizionale possono anche non essere firmati digitalmente perché vengono firmati e referenziato come valore probatorio l'altro verbale quindi è una valutazione di come però se si ritiene ma questo appunto è un aspetto più giuridico che conservativo se si ritiene che siano gli originali dei verbali normalmente vengono sottoscritti spero di aver risposto grazie sì penso di sì attendiamo un ok della persona anche che ha richiesto comunque nel frattempo andiamo avanti e arriviamo a una domanda in cui si cita il registro giornaliero di protocollo che hai citato un po' così però ricompare saltuariamente ma ricompare nelle domande perché è un classico sappiamo tutti che dobbiamo mandare in conservazione il registro giornaliero di protocollo che appunto tutti i giorni lo dice come dire la parola stessa e chiede appunto se in base all'articolo 2,2 del CAD che appunto sappiamo che specifica i destinatari anche i gestori dei servizi pubblici sono obbligati a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo risponderei ma ti lascio la risposta immagino che sia sì cioè se stiamo a seguire le linee guida e le linee guida prevedono quello come dire direi di sì credo che anche tu avresti dato questa risposta credo sì no no l'ho detto sì però lascio sei tu l'esperto di oggi in questo caso anche in questo caso appunto rientra nel fatto che se devono rispettare le linee guida devono rispettare tutti gli elementi delle linee guida compresa questa previsione di sicurezza di invio del registro giornaliero di protocollo sistema di conservazione allora adesso passiamo alla domanda sulle competenze più specifica che devo dire viene sempre fuori perché le competenze sono molto importanti e quindi sono anche spesso molto molto carenti per chi vuole intraprendere il percorso di conservatore o responsabile della gestione documentale invariante cosa consigliereste in merito a tale figura cioè cosa bisogna studiare o sapere per fare il conservatore o il responsabile che sono già due cose abbastanza distinte diciamo precisiamo il conservatore nel termine attuale o responsabile della conservazione forse perché il conservatore in realtà è nella definizione attuale un'organizzazione non è una persona quindi che deve racchiudere diverse professionalità diverse capacità anche tecnologiche come dire di risorse e di oltre che di competenze diciamo responsabile della gestione documentale o responsabile della conservazione ovviamente dovrebbero avere una formazione appunto di tipo giuridico informatico e archivistico attualmente ad esempio ci sono dei master come quelli dell'Università di Macerato percorsi che formano in tal senso dando competenze diciamo trasversali e rafforzando normalmente quelle competenze che possono essere più carenti in percorsi ordinari di formazione archivistici o informatici quindi in realtà la competenza deve essere appunto effettivamente trasversale in questi elementi allo stato attuale non saprei dire altro ecco poi ovviamente tutti gli elementi informativi sul tema attenzione aspetti di varia formazione è sempre utile però dimmi Alessandra che cosa volevi stavo dicendo nel frattempo ho visto una domanda sempre relativa al registro giornaliero di protocollo il registro giornaliero va conservato per sempre o a un tempo di scarto allora il registro i registri giornalieri vanno conservati i registri di protocollo vanno conservati per sempre poi c'è un dibattito in corso se il registro giornaliero poi viene tradotto in un registro annuale o meno attualmente secondo me appunto visto anche le tipologie documentarie e per dire pensiamo a regione Emilia-Romagna regione Emilia-Romagna ha più di un milione di registrazioni di protocollo all'anno la produzione di un registro annuale sarebbe un oggetto pesantissimo quindi a quel punto lì avendo già una produzione di registri giornalieri intanto conserviamo i registri giornalieri poi ci ragioniamo questa è la mia risposta operativa comunque esatto esatto comunque c'è una domanda successiva anche sul registro annuale di protocollo va conservato che di fatto e comunque questo si riallaccia anche forse in parte dimmi tu De Gabriele al piano di conservazione sempre esatto cioè ovviamente appunto esatto ovviamente io posso ragionare che se produco un registro annuale per certi aspetti supero i registri giornalieri però devo definirle e organizzarlo e devo capire appunto in realtà attualmente anche partendo dal 445 non c'è più paradossalmente c'è un obbligo di produzione di un registro giornaliero che viene visto come elemento di sicurezza di attestare effettivamente quello che è stato fatto in quel giorno e non c'è più un'idea cioè adesso il tema di registro annuale in realtà è un tema che anche questo si sta sviluppando ad esempio come dibattito nei gruppi di lavoro di Agit si è trasformato da un punto di vista informatico più una conservazione di una banca dati più che un registro in una forma tradizionale e questo è un tema tutto discusso e dibattuto quindi il ragionamento può andare anche in quel senso lì secondo me appunto come dicevo prima i registri di giornalieri vanno prodotti e vanno conservati sul registro annuale e un ragionamento va fatto operativamente sull'effettivo valore cioè sull'effettiva capacità rappresentativa dei sistemi che può avere un registro annuale o sulla complessità di produzione di un oggetto simile rispetto ai singoli registri giornalieri e il ragionamento che potrebbe essere una logica conservativa d'altro tipo appunto come logica di conservazione di una banca dati che è un'altra cosa fermo restando che le registrazioni di protocollo vanno conservate permanentemente questo è l'elemento poi nella forma in cui si conservano si può valutare vado avanti continuo sempre sui documenti specifici c'è una domanda nel caso di documenti informatici di dimensioni elevate tipo i video che cosa succede quando non non possono essere registrati nel sistema di gestione documentale e o nel sistema di conservazione nel senso si parte ancora prima dal sistema di gestione documentale allora devo dire che ad esempio appunto anche per i siti questa cosa era una vecchia questione relativa ai siti web allora devo dire che per i sistemi di conservazione non dovrebbero avere problemi di gestione di dimensioni di file di grandi dimensioni perché se no mancano la loro funzionalità tant'è vero che ad esempio in Emilia Romagna il sistema di conservazione offre delle soluzioni proprio alla tenuta e anche allo scambio tra pubbliche e amministrazioni che condividono nel nostro caso lo stesso sistema di conservazione di documenti di grandi dimensioni noi abbiamo appunto la recente legge regionale che prevede che i piani urbanistici che non sono video ma sono documenti costruiti da molti allegati tecnici disegni e quindi notevolmente pesanti vengono scambiati cioè vengono inviati direttamente in conservazione nell'archivio del comune che li produce a cui poi si può accedere direttamente anche da parte di regione essendo l'archivio gestito dal conservatore della regione e quindi avere diciamo un unico punto di sistema in cui questi oggetti sono conservati nel sistema di conservazione che fa anche una funzione di gestione corrente e quindi si limita come dire il peso di trasmissione di intrescambio si fa riferimento a un oggetto conservato correttamente nell'archivio e ovviamente quindi si evitano problemi appunto di trasferimento di oggetti pesanti e si evita la produzione di oggetti fisici come i compadischi che sono poi un problema e non una soluzione alla conservazione ok grazie mille qualcuno ha fatto riferimento mentre parlavamo del protocollo del registro di protocollo agli annullamenti di protocollo come come compaiono come dire in conservazione il giorno dopo come vanno in conservazione il giorno dell'annullamento cioè il famoso come dire il registro delle modifiche ecco ok per capirci al registro delle modifiche sì sì allora annullamenti anche cioè dato che il registro giornaliero parla delle operazioni svolte nella giornata in realtà dovrebbe essere anche complessi contenente anche le azioni di modifiche quindi generate anche in quel senso lì ovviamente la modifica entrerà in un registro del giorno in cui è stata fatta la modifica non nel giorno in cui è stata fatta la prima registrazione ok perfetto e dunque ci stanno anche ci sta una domanda interessante sul caso degli uffici periferici cioè se una grande amministrazione passiamo adesso alla parte del manuale una grande amministrazione ha più uffici periferici come deve redigere il manuale deve essere un manuale unico a livello centrale oppure devono essere allora in realtà il manuale di conservazione cioè mentre il manuale di gestione in realtà è previsto a livello di AO e poi bisognerà capire integrato con anche il coordinamento il manuale di conservazione deve essere riferito al sistema di conservazione quindi paradossalmente se un'amministrazione centrale usa un unico sistema di conservazione per tutte le sue strutture può redigere un unico manuale di conservazione perché di fatto quello che viene descritto nel manuale di conservazione vale per tutta l'organizzazione dell'amministrazione viceversa ne approfitto per dire una cosa che ho letto prima se per caso un'amministrazione utilizza diversi conservatori paradossalmente deve referenziare diversi manuali di diversi conservatori perché non ha un unico conservatore che gli conserva l'archivio questo non è una soluzione che crea complessità però sappiamo che esistono casi in questo senso una domanda vedo che il tempo scorre passo all'argomento della sicurezza chiedono per quanto riguarda la descrizione delle misure di sicurezza e questo vale sia per il manuale di conservazione che per il manuale di gestione è il caso di farlo e di rendere pubblici sul sito istituzionale queste misure considerando no hai già questo è un elemento appunto qui esatto tendenzialmente vanno redatti in una forma di eventualmente allegato non pubblicato perché le norme di sicurezza già appunto questo elemento era previsto da Agile nel momento in cui credeva i conservatori accreditati e il piano di sicurezza come elemento allegato ma pubblicava esclusivamente il manuale e non il piano di sicurezza perché i piani di sicurezza in realtà sono documenti per la sicurezza dei sistemi che devono essere riservati sì forse forse hanno fatto questa domanda mentre tu parlavi appunto che bisognava del fatto che bisogna sindicare all'interno del manuale di conservazione i requisiti di sicurezza ma all'interno del manuale come è identificato proprio dalle linee guida Agile esatto fondamentalmente basta dire che sono state redatte i piani della sicurezza e referenziarlo ma non pubblicarlo perché attualmente tra l'altro il tema della sicurezza si è evoluto con anche le nuove linee guida Agile c'è un po' cambiato però richiedono essenzialmente documenti specifici tra l'altro con molto più centrati da un punto di vista anche di specificità informatica e quindi tendenzialmente come documento referenziato per dire ce li ho chi ne ha bisogno può usarlo ma non è un documento pubblico domandona quali sono i documenti te la passo perché effettivamente è una domanda che forse è abbastanza comune a molti e di interesse quali sono i documenti che devono essere mandati in conservazione tutti ora abbiamo chiarito credo già nel corso dell'intervento immagino sia stata fatta prima che ci sono elementi specifici da considerare e ci deve essere un piano di conservazione però questo preguesso lascio fondamentalmente vanno considerati tutti poi vanno valutati se sono documenti appunto a conservazione permanente di sicuro documenti informatici se sono documenti a conservazione limitata si può valutare se è necessario per il mantenimento di questi documenti per il tempo limitato usare un sistema di conservazione o meno questo è diciamo in sintesi il tema però è evidente che io devo considerare tutta la produzione documentale informatica come da valutare per la conservazione e questo è proprio l'elemento specifico del piano di conservazione premesso che scusami Gabriele se aggiungo questo ma forse può essere lo diamo un po' per scontato premesso che ci sei il registro giornaliero di protocollo e le fatture che devono essere ovviamente ci sono ci sono dei casi ci sono degli oggetti che vanno come dire non devono neanche essere presi in considerazione perché c'è una norma specifica che lo indica per tutto il resto visto che c'è appunto almeno una volta all'anno si dice il responsabile di gestione documentale invia in conservazione quindi la valutazione è per quelli che non sono già normati specificamente il tipo di organizzazione di produzione documentale e la possibilità di inviarli o meno in conservazione rispetto al tempo poi vuol dire questa cosa qua il rapporto con un sistema di conservazione può anche essere evolversi nel tempo cioè cominciare con gli oggetti definiti per legge e poi eventualmente evolvere successivamente dipende come anche scritto appunto nelle linee guida anche dalla qualità dei sistemi di gestione documentale che si hanno che si garantiscono già tempi di tenuta e di certezza di mantenere quelle caratteristiche dei documenti informatici si possono mantenere altrimenti si possono ragionare in altre maniere però come logica generale tutto deve essere diciamo conservato ecco poi se in un sistema o in un altro può essere valutato questo diciamo così ecco se forse ho chiarito meglio la posizione sì 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 no no scusami se avevo però tante volte meglio meglio chiarire fino in fondo va benissimo chi è il soggetto responsabile di verificare l'aderenza dei comportamenti adottati dal conservatore esterno a quanto dichiarato nel manuale di conservazione questa è una domanda che si è ripetuta un po' in questo rapporto tra il produttore e il conservatore come si come si gestisce come si fanno le verifiche allora quali sono i soggetti terzi a vario titolo c'era anche un'altra domanda sui soggetti terzi che possono intervenire anche per diparare le matasse allora c'è sempre una livello di sorveglianza sia da parte di agiti che da parte delle sovrintendenze o delle strutture del ministero comunque le linee guida dichiarano che la responsabilità è in capo al responsabile della conservazione valutare poi ovviamente certe azioni possono anche essere demandate alla responsabile dei servizi di conservazione cioè al conservatore che però deve poi renderne conto in ogni caso cioè non è detto che il responsabile della conservazione deve svolgere direttamente le attività anche se lui sono però come dire una sorveglianza generale sul buon andamento della situazione è da un lato che il responsabile della gestione documentale il produttore del pacchetto di versamento deve valutare che ciò che si versa effettivamente sia stato inserito nel sistema di conservazione e il buon andamento del sistema di conservazione per le parti inviate dovrebbe essere in capo alla responsabile della conservazione interna con il supporto con la collaborazione con il con del conservatore ecco insomma quindi anche mediato dal conservatore esatto se non ci sono problemi terrificanti ecco ovviamente poi grazie Gabriele certo comunque si collega in parte a quanto detto ma insomma un po' sempre parlando di terzi per i documenti dove c'è un contenzioso il conservatore dovrebbe essere terzo rispetto alla pubblica amministrazione allora c'è il il concetto di un conservatore terzo in realtà nella norma italiana è prevista in certi casi specifici è ovvio che appunto l'avere un conservatore terzo un'idea generale è un elemento di garanzia maggiore che chi conserva appunto non ha interesse a modificare ciò che è conservato però dal punto di vista di norma italiana non c'è un obbligo in tal senso da chi io sappia senti molte domande scusate io mi affretto perché vedo che il tempo scorre le domande sono tantissime e tutte molto interessanti sto cercando di vedere quelle magari anche più frequenti molte domande sono tra i formati zip sui formati zip cioè i documenti problemi che vengono dai conservatori oppure cose molto molto cioè formati diciamo non accettati dal conservatore ma che comunque vengono registrati nel sistema e arrivano arrivano allora il tema dei formati che meriterebbe una come dire un webinar a parte ovviamente il tema dello zip è che non è un formato ma contiene dei documenti in specifici formati che se non si apre lo zip non si capiscono quindi potrebbe che contenere dei documenti che non sono in un formato idoneo alla conservazione questo è l'elemento fondamentale del tema dello zip ovviamente appunto il rapporto tra logiche conservative che io devo conservare i documenti e capacità di conservazione di documenti non prodotti in formati idonei è un tema che va relazionato appunto tra produttore e conservatore nella consapevolezza che se io conservo degli oggetti la valutazione del formato e che se il formato non è idoneo a essere leggibile nel tempo non è detto che sia effettivamente conservabile però se ad esempio un allegato ha un documento da conservare è meglio che io conservi l'oggetto in quanto tale compreso quello allegato piuttosto che non conservare il documento principale che è conservabile questi sono gli elementi effettivamente di rapporto di relazione tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione tra titolare e conservatore che devono essere tutte consapevoli scusami pensavo avessi finito perdonami vai no no vai pure ho finito pensavo appunto leggevo sia di documentazione sanitaria sia legati di progetti tecnici effettivamente come dici tu questi sono elementi è materia di ulteriori potrebbe essere materia di ulteriori webinar perché stiamo parlando di particolari appunto i progetti tecnici oppure un'altra domanda che era sulla documentazione sanitaria su come mandarla in conservazione sì credo che debbano essere degli approfondimenti esatto esatto vedo una domanda al volo che posso rispondere pare regione emilia romagna a un solo manuale di conservazione che tiene appunto cerca di districarsi tra titolare e conservatore esterno questa l'ho risposto quindi adesso continuo a guardare un attimo perdonatemi sono le 11 quasi le 11 30 vedo un pochino il responsabile della conservazione se lo chiedete a me sicuramente un archivista è il migliore però non posso dire sì sì quello l'avevo incluso nelle nelle competenze ovviamente cioè come già detto dal dal dottor Bezzi continuo anche a dirlo le competenze devono essere archivistiche informatiche e giuridiche questo per tutti quei temi per tutti questi questi ruoli e questi temi e questi anche organizzative da un certo punto di vista però poi dipende quello che uno che uno fa di specifico però una domanda direttissima vedo sì il disciplinare tecnico nella versione prodotta al momento del manuale può essere allegato perché è un elemento che come dire integra il manuale stesso il disciplinare tecnico è un oggetto specifico di rapporto tra conservatore e titolare ho preso anche io un'altra domanda al volo perché viene fatta spesso anche in altre situazioni in altre occasioni quando ci arriva uno zip da protocollare sarebbe agevole aprirlo e protocollare solo i file contenuti in esso direi di sì direi che sarebbe molto meglio esatto molto consigliabile potrebbe dire Gabriele in teoria esatto lo zip è un come dire un formato di trasmissione per ridurre il peso delle trasmissioni ma nei sistemi in realtà dovrebbero vivere come oggetti ovviamente riuniti appunto in un concetto di unità documentaria ma evidenziati nella loro specifica struttura dunque molte domande sono sulla separazione tra manuale di conservazione e manuale di gestione se si possono mettere insieme se si possono lasciare separati io credo di aver capito finora che devono lasciare separati esatto possono eventualmente come ha fatto Regione Emilia Romagna essere approvati con un unico atto ma visto che sono previsti come due oggetti definiti in quanto tale da due paragrafi delle linee guida ebbene che abbiano la loro differenziazione ed evidenza ciò che è il manuale di gestione ciò che è il manuale di conservazione e questa è direi le linee guida l'hanno chiarita in modo abbastanza definitivo Allora siamo arrivati alle 11.32 tempo scaduto e comunque terremo presente tutte queste domande anche per il futuro e per organizzare eventuali altre altre sessioni con voi io ringrazio tutti quanti concludo con una domanda così che diciamo forse non ha non ha non dovrebbe avere risposta ma te la la porgo ugualmente se il registro giornaliero di protocollo va protocollato ma questa era giusto una una battuta beh no comunque è una battuta finale per concludere direi che possiamo dare poi appuntamenti all'anno prossimo o successivi a ulteriori webinar in particolare ad esempio sul tema forse anche del piano di conservazione sì d'accordo va bene grazie veramente tanto Gabriele sei stato veramente chiaro perfetto nei tempi grazie a voi grazie a tutti quanti grazie grazie